Ti servono crediti? Passa da igvolt.it e con il codice malati tutto in maiuscolo avrai 6% di sconto Bella a tutti ragazzi, io sono FB Merck e oggi mi presento a voi con il mio primo video sul canale di noi malati di foot e sarà un incredibile spacchettamento e oggi andremo ad aprire i pacchetti prime della serie A solo ed esclusivamente i giocatori della serie A quindi carichi vogliosi di TOTS partiamo con il primo pacchetto da 750 FIFA Points speriamo bene ragazzi, dovete essere con me eh, dai andiamo col primo pacchetto e andiamo a vedere cosa c'è, dai, lo schifiamo, che schifo, ma continuiamo senza paura secondo pacchetto, andiamo ad aprirlo Perim, che schifo ancora, dai, 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 terzo pacchetto terzo pacchetto, oh, blu, blu, Nainggolan, Nainggolan, Nainggolan al terzo pacchetto Nainggolan al terzo pacchetto signori, 300.000 crediti di giocatore al terzo pacchetto, non ci credo, terzo pacchetto, raggia Nainggolan TOTS signori raggia Nainggolan TOTS e allora andiamo avanti, andiamo avanti carichi, vai carichi con il quarto pacchetto da 750 FIFA Points dove, vi prego, vi prego datemi un TOTS per favore, un TOTS, dai, dai, ok, ci siamo, possiamo andare, vai, col pacchetto nuovo, da 750 FIFA Points, si parte, attenzione, blu, ancora insegne, 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 non ci credo, due pacchetto di fila, due pacchetto di fila, con insegne, non ci posso credere, Nainggolan e insegne, in due pacchetto di fila, mamma mia signori, mamma mia, mamma mia che pacchetto opening, due, TOTS di fila, e allora perché è, non c'è due senza tre signori, non c'è due senza tre, si vola, no, ci hanno spento subito, Lulic, che brutta cosa, però noi non ci arrendiamo, quinto, pac open, sesto pac open, pac, e andiamo, andiamo col sesto, vi prego, dai, no, con Abrosovic, ma non ci arrendiamo, ma non ci arrendiamo, Candreva e De Rossi, ma noi ci crediamo lo stesso, Giorgiovic, basta, io spengo, regalo i crediti e FIFA Points, Don Neck, dai, per favore, datemi un altro TOTS, non c'è due senza tre, Maximovic, ma che schipezza, ma non ci dobbiamo arrendere signori, non ci dobbiamo arrendere, e allora andiamo avanti, continuiamo a crederci, ancora un pack, ancora un pack, Caston, dai, dai, va bene lo stesso, va bene lo stesso, noi ci crediamo, noi siamo carichi, e allora continuiamo, continuiamo con un altro pack signori, si va ad aprire un altro pack kate ma ci crediamo evra non possiamo più crederci ma no ma no dai dai ancora ancora un pack l'ultimo pack l'ultimo pack ma no las ma no las no vabbè dai non so ecco va bene anche manolas e questo dovrebbe essere scusate c'è ancora un pacchetto l'ultimo pacchetto da 750 ed io vengono ancora ma ingolano ancora ma ingolano ancora ma ingolano ancora signori ragia ma ingolando pione ragia ma ingolando pione 3 tots 89 più 3 tots 89 più signori incredibile incredibile il mio primo pack opening e direi che non sta andando male non sta andando male mamma mia voglio vedere bene questo giocatore le statistiche di quest'uomo signori mamma mia mamma mia che giocatore guardate qui doppione ne abbiamo ben due in rosa trovati allora lo andiamo a mettere in vendita ho guardato sull'app di food bin vale 280 mila crediti quindi lo andiamo a mettere a 275 così lo vendo subito e non mi tocca aspettare dato che non posso portarmelo nel club ma mamma mia signori due ingolano insigne un pack opening epico per la mia prima volta e andiamo a vederli intanto guardate anche begli e der in prestito l'ho trovato prima e eccoli qui signori insigne e rajanangolan due tots incredibili e poi guardatelo qua ancora ancora rajanangolan due volte rajanangolan insigne 90 che pack opening e poi prima purtroppo non stavo registrando e ho trovato anche ansaldi e sorrentino quindi mamma mia andiamo a vedere guardate primo proprietario primo proprietario su ingolano primo proprietario su insigne mamma mia signori che pack opening che pack opening primo proprietario su entrambi strepitoso niente da dire mamma mia ragazzi grazie veramente per il supporto che ci porterete grazie veramente è stato un onore per me portare il mio primo video raga grazie di tutto bella grazie a tutti